Ciao a tutti, sono Silvio, sono un seminarista al terzo anno del cammino di seminario della diocesi San Benedetto. Stiamo partendo per il gemellaggio previo alla GMG di Cracovia, partiamo all'incirca verso la mezzanotte, arriveremo domani in serata e saremo ospiti nella diocesi di Catovizze e pian piano vi racconterò, mio malgrado come posso, mi improvviserò diciamo corrispondente, vi racconterò quello che vivremo in queste giornate. Mi piace anche lasciarvi un ricordo, non è la mia prima GMG, sono stato anche a Colonia, però nel 2000 la nostra diocesi ha ospitato un gruppo di polacchi che venivano qui per andare a Roma e lì ricordo proprio delle belle amicizie che si hanno create, quindi andare a questo gemellaggio e proprio un po' un ricevere quello che si è dato ben 16 anni fa, quindi io con questo spirito parto. Ciao a tutti!